ora ha preso le vitamine mammina i fermenti lattici prende le vitamine gioelle tutti i giorni vero i carobin pet nutri plus e flore intero intanto facciamo vedere questa bella cosa che i piccolini hanno fatto grandi passi in avanti hanno tutti gli occhietti aperti tutti questa è la femminuccia nata e buongiorno buongiorno questo questo è piccolo magic magic buongiorno magic come va e per togli occhi a questa vita sì per aperto gli occhi alla vita magic no ma dai ma guarda ma guarda come ciuccia lui pure ce li ha aperti ora li tiene chiusi perché era ma li hanno aperti tutti quanti questi occhietti tutti li hanno aperti perché fai finta di tenerli chiusi ora quando tu ce li hai aperti e questo è natan e ecco chi ci abbiamo lasciamela lasciamela questa tetta vieni qua vieni qua che non muori di fame ma da come gliel'avete fatte quelle tette anche io ho aperto gli occhi alla vita date che pancini che abbiamo fatto siamo dei piccoli piragna ci stiamo succhiando mamma tutta non possono emettere un gemito che lei corre a vedere come stanno una mammina premurosa e lei premur rosissima dolcissima e loro sono dei polpettini meravigliosi meravigliosi perché hanno una mamma buona ho